Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a migliori macchine da caffè. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base, al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Krups XN3006 Nespresso. La macchina per espresso Krups XN3006 Nespresso Pixie è una macchina per espresso compatta e facile da usare che prepara un ottimo caffè in meno di 25 secondi. Questo modello è dotato di una pressione di 19 bar, che consente di estrarre il massimo aroma dai chicchi preferiti. Basta premere un pulsante per ottenere un autentico espresso, cappuccino o latte. Il sistema Thermoblock si riscalda rapidamente, in modo da poter gustare la bevanda prima. Il vassoio di raccolta rimovibile semplifica le operazioni di pulizia e consente di servire le bevande in modo pratico. La funzione di spegnimento automatico spegne la macchina dopo 9 minuti di inattività. La Nespresso Pixie è un'ottima scelta per chi vuole gustare un caffè delizioso senza spendere molto tempo e fatica. Questa macchina è facile da usare e da pulire e produce un caffè dal gusto eccellente in pochi secondi. Numero 4, De'Longhi Dedica EC685. La macchina per espresso Dedica EC685. W di De'Longhi è una macchina manuale perfetta per gli amanti del caffè e del cappuccino. Le sue dimensioni ridotte la rendono perfetta per qualsiasi cucina e la finitura in acciaio inossidabile le conferisce un aspetto elegante. Il cappuccinatore regolabile consente di creare una schiuma cremosa per i cappuccini e il Thermoblock assicura che il caffè rimanga alla temperatura perfetta. La funzione di spegnimento automatico spegne la macchina dopo 9 minuti di inattività, mentre il tempo di riscaldamento rapido consente di ottenere una temperatura di fino a 200 gradi in soli, 40 secondi. Il vassoio raccogli gocce e lo scaldatazze in dotazione mantengono le tazze alla temperatura perfetta, mentre il serbatoio dell'acqua rimovibile ne facilita il riempimento. Terzo posto c'è Delonghi Nespresso. Nespresso lattissima touch è la macchina da caffè più avanzata di Delonghi, dotata di uno schermo touchscreen che consente di scegliere la bevanda preferita semplicemente premendo un pulsante. Latte macchiato e altro ancora. È inoltre dotata di una funzione di risparmio energetico automatico dopo 9 minuti di inattività. Grazie al suo design elegante e alle dimensioni compatte, può essere facilmente posizionata su qualsiasi piano di lavoro o tavolo della cucina. Nespresso lattissima touch è la macchina da caffè più avanzata di Delonghi ed è facile capire perché, grazie al suo design elegante, al display touchscreen e al sistema di erogazione del latte One Touch. È possibile preparare tutte le bevande preferite con la semplice pressione di un pulsante e la macchina dispone anche di una funzione di risparmio energetico automatico dopo 9 minuti di inattività. Numero 2. Philips 2200 Series. La caffettiera automatica Philips 5400 Series, Latte Go Milk Froder è la scelta perfetta per gli amanti del caffè profondo che desiderano gustare la loro bevanda preferita in diversi modi. Grazie al sistema Latte Go ad alta velocità, è possibile creare una schiuma di latte liscia e setosa dalla consistenza perfetta. L'intuitivo display TFT facilita la selezione della bevanda preferita, mentre la funzione Extra Shot consente di aggiungere un sapore intenso al caffè. È inoltre possibile salvare le preferenze di un massimo di 4 persone per una selezione rapida e semplice. Con l'allenatore integrato, è possibile esplorare diversi modi per preparare il caffè preferito. La macchina da caffè automatica Philips Serie 5400, Latte Go Milk Froder è un apparecchio versatile che consente di gustare il caffè in diversi modi. Infine, il numero 1 della nostra lista, IRHC E519F congelatore. Il congelatore orizzontale IRHC E519F è un'ottima opzione per la casa, l'ufficio e il ristorante. Questo congelatore orizzontale è dotato di temperatura regolabile, illuminazione interna, LED ed elevata capacità di stoccaggio. È progettato con un trattamento antibatterico che impedisce l'ingresso del 99,99% di batteri e muffe. Inoltre, questo congelatore orizzontale è dotato di un blocco di sicurezza che protegge bambini e animali domestici. Il congelatore orizzontale IRHC E519F è un'ottima opzione per la casa, l'ufficio o il ristorante. Le sue caratteristiche principali includono il controllo della temperatura regolabile, l'elevata capacità di stoccaggio, il trattamento antibatterico che impedisce l'ingresso del 99,99% di batteri e muffe e la chiusura di sicurezza per tenere al sicuro bambini e animali domestici. E sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo. Grazie per aver guardato il nostro canale!